Si svolgerà mercoledì 25 luglio a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro tra Regioni Liguri a vertici della Bombardie e organizzazioni sindacali per discutere del futuro occupazionale dello stabilimento di Vado Ligure. Lo ha comunicato l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino dopo l'incontro in Consiglio regionale con le organizzazioni sindacali preoccupate per i 530 dipendenti di Bombardie dopo la perdita della gara con Trenitalia per il trasporto regionale e la contestuale apertura da parte dell'azienda di una procedura di mobilità per 100 persone. L'assessore Berrino ha chiesto che all'incontro a Roma prendano parte anche i vertici europei della multinazionale allo scopo di verificare la possibilità che in caso Bombardie possa diventare subappaltatore i convogli ferroviari vengano realizzati nello stabilimento di Vado Ligure e non altrove.